Ciao a tutti, sono Lodovica. Forse qualcuno di voi mi conosce perché in questi anni mi avrà vista interpretare ruoli di grandissimo spessore in serie tv, oppure al cinema, oppure mi avete vista condurre programmi televisivi, sempre di altissimo livello. Qualcuno ascolta i miei brillanti interventi radiofonici quotidianamente, qualcuno annoni fa potrebbe addirittura aver comprato un mio disco. Comunque, se non mi avete mai vista né mai sentita, sappiate che ho fatto tutte le cose che ho appena detto. Ma comunque a questo punto potreste far finta di avermi sentita anche solo per educazione. Il mio ultimo anno di vita è stato emozionalmente molto molto intenso, perché nel caso non l'abbiate ancora notato, sono molto incinta. O come dirsi voglia, in dolce attesa, in stato interessante. Perché si dice in stato interessante? Poi che vuol dire? Cos'è uno stato interessante a Danimarca? Boh, vabbè. Gravida, però non mi piace perché si addice di più a una mucca. In ogni caso, un mesetto scarso mi separa dallo stravolgimento totale della mia vita e di quella di mio marito Tommy, ovviamente. Ma noi siamo pronti, che Dio ce la mandi buona. Adesso che manca malapena un mese, che siamo veramente agli sgoccioli, mi rendo conto che questa gravidanza è volata via in un soffio. È passata velocissima, non mi sono accorta praticamente di niente. Un po' come al lato del concepimento, insomma. Comunque, non ho nemmeno fatto in tempo a realizzare che è praticamente già il momento di passare all'azione. E in ogni caso, io ci tenevo a raccontarvi come è andata la mia personalissima esperienza, già che me l'avete chiesto in tantissimi. Ma forse perché qualche donna in dolce attesa lì fuori può sentirsi rincuorata o identificata ascoltando quello che è successo a me. Perché se è vero che in tante diventiamo mamme, è anche vero che sono molto poche quelle che ti raccontano veramente che cosa significhi una gravidanza. Tutte ti dicono, sì, è bellissimo, è il momento più bello della vita, vedrai un'emozione unica, ma nessuna ti confessa veramente quali sono tutte le sofferenze che tu dovrai affrontare. Quindi, io giuro solennemente sul bambino che sta nascendo e che non può in alcun modo opporsi a questo giuramento, che io, Lodovica Comello, racconterò tutta la verità su quello che significa diventare mamme. E poi non dite che non ve l'avevo detto. Allora, visto che io e Tommy siamo due buone forchette, siamo appassionati di cibo, seguiamo Masterchef e poi ultimamente io ho una fame da lupi, ho deciso di fare un parallelismo gastronomico, secondo me molto pertinente, molto efficace, molto azzeccato, per esemplificare al meglio quali sono per me le tre macrofasi della gravidanza. Che sono, uno, infornamento. Due, cottura. Tre, impiattamento. Ma andiamo ad approfondire. Infornamento. Allora, sull'infornamento non è che c'è moltissimo da dire, nel senso che, cioè, quella roba lì, bene, andata bene, chef, bravo, argentino, grande manualità, ingredienti a chilometro zero, rispetto della materia prima, senza olio di palma, importantissimo il forno preriscaldato, quello, quello, sì, sì. E' fondamentale il banco di lavoro pulito. E poi, ecco, quello c'è da dire che io non avevo i guanti da forno, perché altrimenti non saremmo qui a parlarne. Cottura. Mi sembra chiaro che la fase più interessante, elaborata e anche affascinante della gravidanza sia proprio la fase di cottura, perché è un momento in cui avvengono un triliardo di cose pazzesche, meravigliose, nuove. Prima tra tutte quella che io considero sia un vero e proprio miracolo, ovvero che da una cellula nel tuo ventre cresce un nuovo essere. Un essere che, devo dire, alla prima ecografia non è che mi abbia dato grande soddisfazione. Perché tu vedi questa macchietta strana, questa specie di girino macrocefalo che sta lì, fermo, immobile, si domicilia nel tuo utero e non fa assolutamente niente, peraltro è grande come un'unghia. Ma con le settimane il piccolo inquilino inizia a prendere forma e occupa spazio e ti dà anche qualche preoccupazione, perché è un inquilino silenzioso e quindi tu spesso, con la paura della risposta, ti chiedi se effettivamente lui stia ancora vivendo lì. Perché così come arrivano, a volte questi inquilini decidono di lasciare l'appartamento senza avvisare. Dopo qualche mese, E.T. non è più E.T., ma pian piano inizia ad assumere le sembianze di tuo figlio e devo dire che è una figata. Quindi, come dicevo, durante la fase di cottura avvengono 3.000 cose. Alcune te le aspetti perché in qualche modo fanno parte del bagaglio culturale popolare. Si sa che in gravidanza una ha la lacrima facile, le nausee, l'appetito. Altre cose invece le scopri tu strada facendo da sola e ti rendi conto di come assolutamente nessuno ti abbia mai preparato prima d'ora a qualcosa di simile. Tipo le nausee, la lacrima facile, l'appetito. Tutti minimizzano un sacco, però la gente dovrebbe avvisarti veramente bene di quello che accadrà. Ad esempio, la sessualità. È inutile che ci giriamo intorno, cioè tutti sanno che una donna incinta c'ha più voglia di vomitare, di dormire. Oppure il lavoro, rinunce anche al lavoro. Perché in Italia funziona così bene, bene, proprio bene, nel caso più ottimale, bene che ti va, ti cacciano. Io lavoro nel mondo dello spettacolo e devo dire che nel mio ambiente ho modelli piuttosto surreali. Ad esempio mi vengono in mente, non lo so, la Unziker, Chiara Ferragni, donne che hanno lavorato dal primo giorno all'ultimo giorno di gravidanza e soprattutto donne che sono state capaci di rientrare in carreggiata in tempi record, come se nulla fosse accaduto. Con dei fisici, peraltro, invidiabili. Fattore che per chi fa il mio mestiere non è esattamente irrilevante. Ecco, io spero che andrà così anche a me. Spero che questa fase di cottura non mi giochi dei brutti scherzi. Anche se finora devo dire che sento un po' di puzza di bruciato. E infine, l'impiattamento. Dopo una fase di cottura tra le più lunghe del mondo, dopo nove mesi di forno, ti aspetti di trovare una bracciola secca. E invece no, grazie a una temperatura bassa e costante, a tante paroline dolci e tanta pazienza, dopo nove mesi, voilà! Un tenero e piccolo cucciolo di uomo pronto per essere attentato. Ma credo che alla fine sull'impiattamento potrò parlarvene meglio, solamente dopo che l'avrò vissuto in prima persona. Quindi, nei prossimi podcast vi informerò e vi racconterò di com'è stata la mia personalissima fase di cottura. In particolare nel prossimo podcast affronteremo la delicata e scottante e travagliatissima fase del non ho mai. Se volete sapere cos'è, appuntamento al prossimo podcast. Ciao!